Sono stati premiati il 22 dicembre nell'Aula del Consiglio regionale i giovani piemontesi che dal 1 al 3 dicembre scorso a Göteborg, Svezia, hanno partecipato ai campionati europei dei mestieri denominati Euroskills. Tra di loro Denise Giacosa, 19 anni, di Mondovì, Cuneo, che ha portato il Piemonte sul gradino più alto del podio, conquistando la medaglia d'oro per il mestiere di hotel receptionist. È stata un'esperienza bellissima, consigliata, una grande opportunità, è stata proprio un'esperienza formativa da tutti i punti di vista. La medaglia è un valore aggiunto all'esperienza, è stata un'esperienza comunque gratificante. Poi la medaglia, vabbè, è stata un'emozione incredibile essere là, perché non me lo aspettavo e il livello della competizione era molto elevato, quindi non credevo di potercela fare, ma evidentemente il nostro essere italiano è piaciuto. Bellissima esperienza, un'esperienza poi oltre a essere tutor, sono stata la sua insegnante per tanti anni, per cinque anni, tutto il percorso scolastico fatto insieme a Mondovì, all'alberghiero di Mondovì, e poi anche l'esperienza come expert e quindi giudice in questa competizione di così alto livello. Quindi veramente è una bellissima opportunità e un ringraziamento veramente grande a tutti coloro che hanno reso possibile questo, l'assessorato all'istruzione della nostra regione, della regione Piemonte, l'Agenzia Piemonte Lavoro.